Mi piacerebbe dirvi che sono nuove info su Inazuma Eleven, ma non lo sono. Sono tutte le informazioni che hanno rilasciato al Tokyo Game Show e le hanno quindi trascritte anche per i comuni mortali che non hanno seguito l'evento e possiamo finalmente avere una traduzione, seppur fatta da Google, ma almeno abbiamo qualcosa di concreto di cui parlare. Quindi, quello che abbiamo visto al Tokyo Game Show è quello che è stato, però ora ce l'abbiamo scritto. Questo qua è il viaggio da Farid in Inazuma Worker. Va bene, sì, quello che è sempre. Poi ci ripete che vuole il gioco che duri 5 anni, ma anche noi vogliamo che duri più possibile. Sfide all'infinito parte 1. Collezionari tutti, più di 4500 giocatori. Ora, collezionari tutti? No, perché il numero massimo di giocatori è stato 200. Però voleva superare il limite. Tu mi stai dicendo che io posso veramente avere 4500 giocatori? Puoi mantenere tutti i giocatori che collezioni. Quindi non devo lasciarli in qualche maniera, tipo, ne ho tutti quanti gli slot completi, devo mandarnevi a qualcuno? Ragazzi, 4500 giocatori sono davvero tanti, quindi bomba. Poi abbiamo, una volta ottenuta, non è finita. Che vuol dire una volta ottenuta? A quanto pare, Inazuma Eleven avrà anche, anche, elementi hack and slash. E cos'è un hack and slash? Quando vai nel dungeon, ammazzi tutto quello che trovi e prendi gli oggetti più rari. La stessa cosa con Inazuma Eleven. Quando prendi un personaggio non è finita, non lo è. Infatti vale la pena, la situazione vale la pena, radunare più personaggi. Che significa? Che ogni giocatore ha un livello di rarità. Non è un gacha. Non è un gacha. Quindi, dato che hai elementi hack and slash, tu vai più volte a conquistare un certo personaggio. Più volte lo trovi, più diventerà raro. Quindi andiamo da player normale, anche se penso che Mark partirà da legendary player, visto che è un giocatore leggendario. Fino ad arrivare ad una di queste tre hero, non so. Sono tutte quante diverse, ma sono hero e uno solo. Dipenderà poi magari dal giocatore. Poi, ogni giocatore ha abilità uniche, che sono chiamate effetti passivi. Quindi le skill, praticamente, quelle che noi, aspetta però, potrebbero non essere quelle che si chiamavano skill abilità, ma possono essere qualcosa di nuovo. Anche se, da quello che abbiamo visto negli altri trailer, sembravano effettivamente le passive che vengono attivate in ogni partito, oppure che si attivano solo quando evochi uno spirito guerriero. Ma vedremo comunque sia più in là quando uscirà il gioco vero e proprio. Chi lo sa. Inoltre abbiamo, per la modalità storia e la modalità cronaca, una carta giocatore chiamata spirito. Usandolo, i personaggi che possono essere esplorati, quindi reclutati, immagino, o combattuti, appariranno sulla mappa, quindi controlla la posizione e vai a trovarli. Giusto. Alcuni personaggi però non appaiono sulla mappa e diventano amici senza doverci andare a trovarli. Uomo. Poi abbiamo la barra del risveglio. In altre parole, puoi accumulare la barra del risveglio del giocatore avanzato Endo Mauer, farò crescere fino a diventare il miglior giocatore Endo. Come succedeva in Strikers. Che vuol dire? Vi ricordate di Strikers quando facevate i minigiochi, che c'erano quelle stelline che diventavano blu, poi più facevate i minigiochi più aumentava la barra? Quello era il risveglio. Stessa cosa qui. Più alleni il giocatore, più la barra del risveglio cresce, in Strikers poteva sbloccare altre tecniche. Stessa cosa sarà qui. Ogni personaggio però non deve essere solo forte. Diventa necessario raccogliere amici che corrispondano anche alla personalità della squadra. È giusto. Ci sono tre tipi di squadra. Per la modalità storia, per la modalità cronica e la modalità torneo. Dopo che hai completato la storia, i membri delle squadre in modalità storia potranno anche unirsi alle squadre cronical e le squadre da torneo. Per quanto riguarda il team building, puoi rendere la squadra più forte, collegando gli effetti passivi dei personaggi. Ed è quello che ho detto appunto l'altra volta, che si era capito benissimo che, creando una certa sinergia, crei una squadra che spacca tutto. Sfiga all'infinito parte 4. Una volta vinto non è finita. E no, devi arrivare al meglio del meglio. Giochi partiti in modalità storia e cronical. Una volta vinto la storia avanza e ricevi ricompense. Puoi però aumentare il livello di difficoltà e riprovare quante volte vuoi. Quindi puoi anche arrivare a sfidare le squadre a livello massimo di istruzione totale e annientamento supremo, probabilmente qualcosa del genere. E ogni volta che ripeti le partite, ricevi, puoi, puoi guadagnare, non ricevi sicuramente, puoi ricevere gettoni eroi e scambiarli con rari libri ed equipaggiamenti segreti. I libri sarebbero i libri delle super tecniche. Poi hanno finalmente aggiunto la modalità online. Sarà una classifica basata sulle prestazioni e si terrà un torneo Victory Road per i migliori giocatori per determinare il numero 1. I tornei hanno regolamenti come Football Frontier e Holy Road, ma le regole sono leggermente diverse. Ci sono restrizioni sui giocatori che possono giocare e sulle tecniche che possono essere utilizzate. Infatti non potranno essere usati gli spiriti guerrieri. Va benissimo, per carità. Nel torneo non mi interessa usarli. Ogni torneo durerà 3 mesi. Ok, però è ancora in programmazione perché effettivamente non è facile programmare una cosa del genere. Non a livello tecnico, ma a livello di vita vera. Quello intendo. Proprio a organizzarsi con tutti gli orari, quanto restabiliti, devi giocare in certi orari. Magari l'altra persona non può, quell'altro non può, un giorno sì, l'altro no. Non si trovano mai con gli orari. È molto molto difficile. Inoltre nei tornei avrai una combinazione di 6 giocatori stagionali e 5 o meno giocatori eterni che praticamente stanno sempre lì in squadra e non se ne vanno mai. Fate attenzione però che i giocatori stagionali, poi una volta che li hai, non è che se ne vanno. Li hai come amici e potrai usarli altre volte nella modalità storia o nella modalità cronaca. Però se vuoi utilizzarlo sempre, lo metti nello slot dei giocatori eterni e sta lì, te lo giochi ogni volta che vuoi. Però massimo 5. Non è sbagliato perché almeno uno non è più forte di tutti. Magari uno ha 11 giocatori, tutti fissi, no? che li ha potenziati al massimo, ha una sinergia perfetta nella squadra e vince sempre. Quindi nessuno è superiore agli altri, conta davvero la bravura della persona, contano davvero le skill e non ho il giocatore con l'attacco più alto vinco sempre. Molto importante. I giocatori possono essere acquisiti che cambieranno a seconda della stagione ogni tre mesi. In altre parole, ogni tre mesi cambi i giocatori. Va benissimo, questo è chiaro. Vogliamo rendere una Zoom Eleven un software che crescerà insieme a tutti coloro che giocheranno. Ci vorrà un po' di tempo per completarlo, ma spero che non durerà. Quindi attenti. Loro hanno dato un generico 2023 all'inizio, ma poi hanno visto che il gioco si evolveva sempre di più, i fan vogliono sempre un gioco più perfetto e a Chiorino ha detto ragazzi, non ce la facciamo, lo stiamo ancora sviluppando, vogliamo renderlo perfetto. Qua sicuramente qualche esplua lo troveremo per aumentare gli attacchi senza pagare nulla come in Zoom Eleven o Galaxy. Quindi aspettate un pochino di più. Io sono fiducioso che in Zoom Eleven questa volta sia un prodotto davvero eccellente. Aspettiamo quindi un pochino di più. Non mi frega niente di attendere tre, quattro mesi in più ma che sia un bel gioco. Io ripeto, per me esce a inizio 2024, massimo varzo-aprile. Non prima, non dopo. Allora andiamo a per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. Le news terminano qui di in Zoom Eleven che poi non sono news ma sono quelle che sono state lette a TGS ma almeno stavolta le abbiamo scritte e abbiamo un quadro più completo di quello che abbiamo sentito e ho potuto darvi un pochino di info migliori rispetto a quelle dell'altra volta che erano molto sommarie ma stavolta davvero abbiamo qualcosa di concreto. Allora, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!